E' uscita di strada definita giù dalla Scarpata, ribaltandosi in mezzo ai boschi. E' accaduto oggi, giovedì 6 settembre, intorno alle 16.30, sulla strada provinciale 62 che collega Farzione San Giovanni di Castellamonte a San Martino Canavese ad un Alfa Romeo Giulietta. Il conducente, un 37enne di Torino, è fortunatamente riuscito ad uscire da solo dalla vettura e a risalire la Scarpata. Giunto sulla strada è stato notato dal conducente in auto di passaggio che si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'elicottero dei vigili del fuoco, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri del nucleo radiomobili di Ivrea. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al valio dei carabinieri. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale, ferito ma non in pericolo, è stato trasportato in ospedale, ferito ma non in pericolo.